Allora, chiamoli da Carlo, Gianni. Ok, Alfonso di Vito, numero due. Quindi, ma anche, ma non è il numero due, Alfonso di Vito. No, è l'altro. No, numero tre. Tre, 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 tre. Su. Ah, su, ah, su, scusate. Sì, Alfonso di Vito. Scusa, di vuolo. Di vuolo. Sì, come, lascio, lascio. Allora, sì. Chiedo, vedi, la chieda. Allora, ripetono a casa, dai. Allora, numero due, Alfonso di Vito. Numero tre, Andorio Di Luzzo. Numero dodici, Rieno Garoppano. Sedici, Massimiliano Inpezi. Trentatue, Gabriele Callara. Trentatquattro, Alessandro Sampuni. Trentasette, Giuseppe Seccia. Trentanove, Emiliano Morizzi. Quarantquattro, Saverio Conceglia. Quarantacinque, Lino Parone. Cinquantasei, Antonio Nasti. Sessantacinque, Piero Conella. Eccolo qua. Ok, ragazzi. Allora, fate tutti i miei. Grazie. Pianniamo, dà. A 2 e 3 a 3. Allora, 3, 3, 12, 2, 3, 4. Allora, va bene così, ragazzi. Stato andando a dire un po' sul centrale. E' il numero 57. Allora, va bene così, ragazzi. Vale. V Mazda, a 2, 5, 6, 6. Bravo. Allora, va bene. Allora, va bene. Allora, va bene. Valono. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.